Si è svolta ieri mercoledì 13 ottobre la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Castellabate a seguito dei risultati delle scorse elezioni amministrative del 3-4 ottobre che ha visto la proclamazione a sindaco Marco Rizzo della lista Castellabate rinasce. All'ordine del giorno esame degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale e delle condizioni di elegibilità e compatibilità di ciascuno di essi, giuramento del sindaco, comunicazione del sindaco sulle nomine degli assessori e del vice sindaco, elezione commissione elettorale comunale, nomina delle commissioni per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. I consiglieri che hanno composto la maggioranza sono otto Luigi Maurano, Nicoletta Guariglia, Mariana Carbutti, Antonio Florio, Dalila Clementina Russo, Raffaele Di Gregorio, Gianmarco Rodio, Clemente Migliorino, i consiglieri di minoranza invece sono quattro, due della lista Castellabate al centro, Domenico Di Luccia e Catina Tortora, e due della lista Castellabate nel cuore, Luisa Maiuri e Costabile Nicoletti. Per quanto riguarda invece le nomine degli assessori, Luigi Maurano ha ricevuto la carica di vice sindaco con delega al bilancio, al personale, al patrimonio, all'innovazione e alla cultura. Nominate assessori anche due donne, Mariana Carbutti, con delega alle politiche sociali, pari opportunità e pubblica istruzione, e Nicoletta Guariglia con delega al commercio, ambiente, agricoltura e lavori pubblici. Infine Antonio Florio, la delega al mare, porto, area marina, ente parco, ciclo delle acque ed edilizia scolastica.